Immagini che evocano emozioni di una storia giocata sui limiti delle responsabilità e fanno riflettere sulla vita in termini di salute è il book movie Shutting della regista nissena 27enne Denise D'Aqui vincitore della quinta edizione del concorso Book Jack Azione 2016 premiato lo scorso 30 agosto al Lido di Venezia durante la 73esima mostra internazionale del cinema Sezione Indipendente a consegnare il premio di cui è stato iniziatore il regista Ettore Scola quest'anno Ascanio Celestini, presidente della giuria Interpreti del corto Giuseppe Milazzo, Carlo Giacquinta, Gianluca Trapani, Andrea Cortese, Marco Arcoleo, Giuseppe Lobù e Annalisa Iozza La fotografia è di Filippo Arlotta, le musiche di Bruno Falanga Un altro prestigioso riconoscimento per la regista nissena, laureata al Dams di Bologna in cinema che sinora ha realizzato tre cortometraggi tutti intracciati alla narrativa L'uomo che non ha mai vissuto, La putia e Il volto dell'anima Quest'ultimo vincitore della sezione European Short al Festival del Cinema di Jakarta Bookjack Azione 2016 è un concorso indetto da Bookjack Magazine in cui la sfida che si propone ai giovani talenti e ai giovani registi è quella di concentrare in tre minuti video un libro, un contenuto narrativo e nel mio caso io mi sono ispirata ad un'opera di Fulvio Ervas che loro mettevano a disposizione la loro banca dati, Tu non tacere, che nella versione cinematografica è diventato Shatting perché l'ispirazione cinematografica mi è stata data dal grande Kubrick Tu non tacere la storia di un giovane studente di medicina a cui viene a causa di un episodio di mala sanità sottratto il padre sottratto perché non era prevista questa morte così repentina e si trova quindi con tutte le problematiche relative a uno studente si trova quindi a mettere in crisi e in discussione tutti i suoi sogni chi è lui e cosa dovrà rappresentare in futuro se ovviamente le responsabilità che il suo lavoro prevede possano essere alla meglio affrontate da lui che così crede in questo lavoro ma a cui la realtà ovviamente ha dato assolutamente altre risposte